Chiedo scusa se l'ha infortunio, bella signora, le volevo chiedere una cortesia. E qui in zona la sede degli Atei? Sì. Guardi dovrebbe essere la prima a destra. Sì, la prima a destra. E che fa, mia compagna? No, eh? Sì, perfetto. Era una figura intera, bella. Tanto, ora giro il vinco e da qualche rai. Oh, salve, salve. Senta, mi scusi, ho una cosa che faccio. Vediamo se... Ti do scusa, cortesemente, è questa la sede degli Atei? Non credo. Non credo, pure io non credo. No, ho detto non credo. Anche io non credo, se non mica stavamo qua a chiacchierare io e lei. La sede degli Atei non è che... Anche perché il pensiero fisso è proprio il non credo. No, nel senso che lei mi ha fatto una domanda e io ho risposto non credo. Certo, anche perché siamo proprio di fronte alla sede degli Atei e quindi per un attimo il non credo è credere nel non credo. Non so se mi si piega. Perché no, nel senso che intendevo non credo. Ah, poi. E io non credo, guardi, che mi fermo con lei. Sì, ti puoi sbagliare, ma siccome a me dovrebbe fare il giro la bella femmina Brune che stava qua alle spalle, non si sape mai nella vita che aveva vado a incrociare con una bella di granita di caffè con panna! Ostia!